questo non lo fa nessuno quel pezzo qua non lo fa nessuno quel pezzettino qui non lo fa nessuno venire su perché è stupido ma non c'è dentro niente solo che non gli piace ma va ma non c'entro niente il dio seve lo fa allora mi chi è così dove è arrivato non si sa quello che cacchi può fare è solo pregare quello la vai Sergio la la Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bisogna stare attenti poi a scendere da qua. Questa chiamasi zona della guerra. Aiuto. Cazzo si è scavata la radice qua sotto però eh. Oh! E mo? Che ti accendi di qua? No c'è la radice in mezzo. Si è scavata la radice. No è questa è. E questa qua no quello lì. Quello lì non mi interessa. No è questa è. No. 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 Non si può più scendere da qua. Cazzo c'è questa qua se ti prende questa qua che ti va via vai giù con la faccia come... Eh ho capito ma di qua c'è il tronco eh. Esatto. No. Devi uscire da qua ma qua ti ci vuole giù il dietro. C'è stato un andrere vi togliete davanti vaffan cuore no spenta scendo con l'acceso non scendevo c'è quella stupida lì che se ti porta via il davanti quel secondo sei in terra 30 anni ha ancora la città vaffan cuore